Allora, amici carissimi, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi Adamo e la vita nella Divina Volontà, giunto alla dodicesima puntata, anche questa sera Gli scritti ci porteranno sempre molto in alto, come sempre succede nella conoscenza e nella crescita di ciò che riguarda questo splendido e divino mondo Ecco, per cui io non mi addentrerei troppo in introduzioni passando immediatamente alla lettura dei testi di questa sera Cominciando ancora una volta dall'ultimo brano del ventesimo volume E poi apriremo il capitolo ventunesimo volume, almeno uno Forse dipende anche dai tempi che abbiamo a disposizione, forse anche due brani Leggo subito, senza neanche introdurlo, ecco il primo Che dice così? Siamo al volume ventesimo, 6 febbraio del 1927 Come l'anima giunge a possedere il Fiat Supremo, il primo atto di Dio è mettere in comune i suoi beni con lei E accentrandole il suo sole nella corrente della sua luce fa scendere i suoi beni nel fondo dell'anima E lei prende ciò che vuole e nella stessa corrente della luce che possiede Li fa risalire di nuovo al suo creatore Come il più grande omaggio di amore e di riconoscenza E la stessa corrente li fa riscendere di nuovo in essa Quindi salgono e scendono continuamente questi beni Come certezza e suggello della comunanza tra creatore e creatura che vi è tra loro Tale era lo stato di Adamo quando fu creato, fino a quando peccò Ciò che era nostro era sua La pienezza della luce accentrata in lui In vista che una era la sua volontà con la nostra Gli portava la comunanza dei nostri beni Come ci sentivamo raddoppiare la nostra felicità per causa della creazione Non per altro, ma perché vedevamo Adamo il figlio nostro felice della nostra stessa felicità Perché essendo la sua volontà una con la nostra Questa gli faceva piovere a torrenti i nostri beni della nostra felicità Tanto che lui, non potendola contenere tutta Perché non aveva la larghezza del suo creatore Mentre si riempiva fino all'orlo, fino a sboccare fuori Faceva risalire tutto il resto a colui dal quale li riceveva E che cosa faceva risalire? Il suo amore perfetto che aveva ricevuto da Dio La sua santità, la sua gloria che possedeva in comune con noi Come per ridarci la fariglia della felicità, dell'amore e della gloria Felicità gli davamo E felicità ci dava Amore, santità e gloria gli davamo Amore, santità e gloria ci dava Figlia mia, il possedere una volontà divina è cosa da far strabiliare E l'umano natura non può comprendere il tutto Sente, possiede e non sa esprimersi Allora io purtroppo non sono ancora saltato bene dalla sedia Però ho scusate un po' di allergia Ma leggere tante cose Anche se poi quando uno si impratichisce un po' con questi scritti Non dico che ci fa l'abitudine Però sa alcune cose Però o rivederle davanti Oppure riascoltarle sotto una ulteriore sfaccettatura differente È davvero qualcosa di impressionante Io vorrei subito polarizzare l'attenzione Anche per coloro che magari ascolteranno questo intervento O che magari seguono E che non conoscono bene questo discorso Che abbiamo aperto da un po' di tempo Ecco, io vorrei soltanto Evidenziare una frase Che è importantissima Gesù dice Come ci sentivamo raddoppiare la nostra felicità Per caso della creazione Non per altro Ma perché vedevamo Adamo Il figlio nostro Felice della stessa felicità Molta gente ha delle idee un po' strane Ecco, su Dio Sulla religione Anche comprensibili A volte dipendono da ignoranza A volte dipendono da Cattivi testimoni Da superficialità Nell'approfondire tante cose Ma Vedete un punto fondamentalissimo Che si impara in questi In questi scritti E che fu una delle prime cose Che a me colpì In maniera Fulgorante Non è che io non Non lo sapessi Cioè Personalmente Nella mia esistenza Mi sono profondamente Sentito amato da Dio Questa è proprio una cosa E la percezione profonda Di questo amore È stata Una delle molle Che poi mi ha messo Mi ha mosso Diciamo così Per Dare la vita per lui Non so come Non so Comunque Il fatto è successo Insomma Poi Il come questo proceda Lo giudicherà lui Alla Alla fine della mia esistenza E Però Una tale Chiarezza Una tale Profondità Una tale Veemensa Nel fartelo percepire Io non l'avevo vista mai Cioè Io La certezza La convinzione profonda Che ho adesso Di quanto Veramente Dio ami l'uomo Ogni uomo E tutti gli uomini Non l'avevo Prima di conoscere questi scritti Te lo confesso Insomma Non è che pensassi Che Dio fosse cattivo O che fosse Un terrorista O che fosse Un giudice O che fosse Ne stesse per conto suo Come pensano i teisti Insomma Lì al cielo Che tanto non gli importa Niente di quello Che accade sulla terra No Però A questi livelli Io non ci arrivavo Insomma Non proprio Non Non mi passava Neanche per l'anticamera Del Del cervello No E E che cosa Rivelano fondamentalmente Questi scritti Poi lo sentiremmo dire Anche esplicitamente In uno dei paragrafi seguenti No Cioè che quel discorso Che Dio Aveva aperto Con Adamo E Adamo Ha vissuto E che si è interrotto Diciamo così Non Con Contro la volontà Di Dio Dio non avrebbe voluto Che Che la terra Si riducesse Come sia ridotta Assolutamente E quindi Ha già pensato Un momento Una possibilità Un tempo Delle creature Con cui Questo discorso Riprenderlo Perché è troppo bello Per essere Come dire Interrotto Lo ha ripreso Cioè Sappiamo con certezza Che la Madonna Ha vissuto tutto questo No Ecco perché è così È così divinamente bella In tutte le sue manifestazioni Sappiamo anche con certezza Che Luisa L'autrice Di questi scritti Ha vissuto queste cose E quindi Sa cosa significa Essere felici In questo mondo Ecco La cosa bella È che È una possibilità Che dopo Queste rivelazioni È Accessibile A chiunque Lo desideri E qui è bello Un attimo Ripercorrere Alcuni passanti Ciò che era nostro Era Suo Cioè Gesù spiega Come questo Possesso Della divina volontà Che aveva Adamo Che lo portava A fondersi Completamente In Dio E in tutto Il suo mondo Creava Una Perfetta Comunanza Di vita E di beni Tra l'uomo E Dio Ciò che era nostro Era suo La pienezza Della luce Centrata in lui Gli portava La comunanza Dei nostri Beni Cioè Noi purtroppo In questo mondo In questa vita Non possiamo Non sappiamo Renderci conto Non abbiamo idea Di cosa Sia Dio Perché se ce l'avessimo Se gli uomini Se gli uomini Avessero un'idea Di quello Che è Dio Di quanto Di quanto è bello Di quanto è Soave Di quanto è Fantastico Di quanto è Meraviglioso Di quanto è Potente Di quanto è Ricco D'accordo Ma farebbero Tutti quanti Le corse A cercare Di Conoscerlo No Come sappiamo La sta grande maggioranza Purtroppo Delle creature Neanche si cura Diciamo così Del problema Dio Che tra l'altro Non dovrebbe essere Un problema Comunque Neanche Neanche se ne cura Perché Perché non si rende conto Non ha la più palida idea Ma neanche proprio Io dico sempre Che non gli passa Neanche per la prea Anticamera del cervello Insomma Non una cosa del genere E E quindi Dio che era già felice Di aver creato Perché ricordiamo sempre Che Per Dio Creare È un atto Completamente libero E non necessario Cioè Dio era perfettamente Compiuto Felice E Completo In se stesso La creazione stessa È stato uno sbocco Dell'amore di Dio Un volere uscire Da sé Per comunicare Fuori di sé La pienezza di vita Che egli è E ha Basta Tutto qui E Essendo Dio amore Proprio il dare Il darsi È in sé stesso A crescimento Come dire In qualche modo Di gioia Per Dio Ci vedevamo Raddoppiare La nostra felicità Per causa della creazione Quindi Felici di averla creata L'umanità Ma anche felici Che ci fosse Il principe Della creazione Materiale Che è l'uomo Capace Di essere felice Della nostra Stessa felicità Capite Il fatto che Noi siamo chiamati Al paradiso Noi non siamo stati creati Per il pianeta Terra Cioè Adesso le cose Sono un pochino Cambiate Ma Per Adamo era Eden terrestre Eden celeste Paradiso terrestre E paradiso celeste Per noi adesso Fino a quando Non entriamo In regno Della mia volontà È diventata Questa valle di lacrime D'accordo Non è più Il paradiso terrestre Ma poi ci sta Comunque il paradiso D'accordo Il paradiso È È rimasto Sussistente E Dio ha creato La mia anima Come la tua Di chiunque Ascolti queste Povere parole Che sto dicendo Per un motivo Molto semplice Per renderla Perfettamente Beata Una volta Che raggiunga Il paradiso Questo è Quello Il fine Per cui Lui Ha fatto Ha creato La tua anima Poi bisogna vedere Se tu Gli consentirai Considere a questo fine Di potersi realizzare Come diceva Sant'Agostino Dio che ti ha creato Senza di te Non ti salverà Senza di te Non ti imporrà Di raggiungere Il tuo fine Si manifesterà Misteriosamente Così come lo conosciamo Adesso Attraverso tante Circostanze Non chiare Oscure Dentro l'orizzonte Della fede Attraverso Situazioni Fatti Avvolti Atipici Anomani Impensati Impensabili Sollecitando Delicatamente La tua anima La tua coscienza A dargli delle risposte Responsabili Personali Da interlocutore Attivo Nel rapporto Con lui Tutto questo Ma il fine È che ti possa portare In paradiso Ora La bellezza del regno Della divina volontà Non è tanto Che andiamo in paradiso Questo lo sappiamo Già prima D'accordo Lo sappiamo già Lo sappiamo già Dal catechismo Della prima comunione Della cresima Insomma Che Almeno speriamo Che queste cose I catechisti Dicano ancora Io farò Dei controlli Ulteriori Insomma Che almeno Da queste parti Cerchino Di ricordarlo Bene Però Qui Si può vivere Il paradiso Sulla terra D'accordo Perché se io Se io Mi metto in condizioni Che Dio possa Comunicarmi Qui Farmi vivere La sua stessa felicità Cioè Ragazzi Questa Non è una vita Capite Una vita grigia Una vita Arrabbattata Una vita Grigia Piena di problemi Piena di rogni Insomma Con un sacco di disastri Che uno non sa Come uscirne fuori E fa un sacco di soldi Perché Diceva il Papa Mi è piaciuto tanto A me quell'intervento No? Di due o tre settimane fa Cioè Il mondo è diventato Il parco giochi E un immenso Luna Park Il paese dei baocchi D'accordo E che cosa devono fare Gli uomini Devono riempire Le tasche di soldi Perché se no Come quando vai a Luna Park Se c'hai soldi Dentro la tasca Non puoi andare sulle giostre Allora L'ultima attrazione Di tutti quanti Gli ultimi I divertimenti Tutte le cose Che ce ne stanno Di tutti i colori È chiaro È chiaro che se tu Ti vuoi togliere Tutti gli sfizi Di questo mondo Ci devi avere i soldi Vuoi la macchina nuova Ci vogliono i soldi Vuoi la moto Ci vogliono i soldi Vuoi la barca Ci vogliono i soldi Vuoi andare in vacanza Adesso non so Che erano i posti Che fanno Non lo so Ci vogliono i soldi Vuoi tutti i vestiti firmati Ci vogliono i soldi Vuoi una casa da paura Ci vogliono i soldi D'accordo? Ecco Ma tu Continui Vai Ti devi Buon divertimento D'accordo? Anche le persone Molto molto ricche No? Che sono generalmente Invidiate Ma la persona Che conosce Dio Veramente E la ricchezza Che Dio dà Sapete Quanta invidia Gli fanno i ricchi Da zero A mille Zero Dopodomani È la festa Del grande San Francesco No? Che è stata Una copia vivente Di Gesù Ma noi pensiamo Che una persona Come San Francesco Che vive la povertà Penso che San Francesco Cioè Cioè La lezione di povertà Che ha dato San Francesco Penso che sia Insomma San Francesco non voleva Manco toccare i soldi D'accordo? Non c'aveva neanche Le scarpe ai piedi Capite? Cioè Ma neanche Dice sai Almeno lo stretto Indispensabile Per mangiare E per vestirti Non voleva niente Zero D'accordo? Zero Quando vide i frati Che si erano fatti Il convento Ha salito sul tetto Ha spacciato le regole Ha buttato tutto giù Convento D'accordo? Ma perché ha fatto Tutte queste cose San Francesco? Perché ha fatto Tutte queste cose? Perché era pieno Di nostro signore Se tu sei nostro signore Non te ne importa Niente Niente Di nessuno D'accordo? E perché gli altri C'è creda No? Dici ma Sai Immaginate Rockefeller Che ti vanno a dire Ah io sono pieno Di nostro signore Non mi porta niente Di nessuno E te credo Cioè C'hai miliardi De dollari Cioè Capito? Eh sì E poi c'è pure Il nostro signore Allora Per fartelo capire Non c'ho niente Al di quale di lui Ma non pensare Che io sono più povero Di te Tu sei più povero Di me Anche sei miliardari Questo è il Ma è così Veramente D'accordo? Non è un Sono tutti Devono diventare Come San Francesco Però il messaggio Muto di San Francesco È Dio vale più Di ogni Ricchezza Di ogni cosa bella Che tu possa Vivere sulla terra Questo è il messaggio Anche della sua Eroica Insomma Straordinaria E inimitabile Penso per certi aspetti Povertà Questo è D'accordo? Questo è E San Francesco Questa è una mia opinione Personale Personale Secondo me Si è avvicinato molto A rientrare Nel regno del figlio al supremo E la prova Ne è il cantico Delle creature Io Gesù ha detto Che Trova tutti quanti I santi Cioè San Francesco Non aveva Ovviamente Non poteva avere chiare Queste cose Che Gesù ha rivelato Ma il suo tasso Ma il suo tasso di santità Andrò talmente Tanto oltre Da ritrovare Il cantico delle creature Le prediche agli uccelli Il discorso al lupo di ubbio Cioè questa Capite? Questa perfetta comunione Con il creato Cioè con il fiat creante D'accordo? Questo è come dire È uno dei punti salienti Della vita Nella divina volontà Quindi di imparare A riconoscere In tutta la creazione La mano La volontà di Dio Il ti amo di Dio Laudato sì Mio Signore Per frate sole Sora luna Eccetera eccetera Che cos'è? Si guarda intorno Dice guarda Nostro Signore Ha fatto tutto questo Per me Me l'ha regalato Io devo lo dare Ma quanti uomini Fanno 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 questo No? Cioè Quanti? Quanti Ringraziano Dio Per le cose belle Semplicemente Che ha sparso Nella creazione Sono andato al mare Quest'estate E guardando il mare Dice Signore mio Ma grazie Che hai fatto questa creatura Che mi fa pensare Alla tua immensità Alla tua maestà Che mi dona testata Un po' di refrigerio Che tra l'altro Noi che siamo Tanti istruiti Sapete che Senza tutta la montagna Di acqua e di mare Che ci starebbero Tutti quanti Le regolazioni climatiche E della temperatura Del nostro pianeta Buonanotte D'accordo? Non ci sarebbe la vita Cioè Le opere Di Dio Sono veramente Perfettissime No? Francesco Ce l'ha arrivato Ecco A vivere La perfetta Redizia Come 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 La perfetta Redizia È Non avere Niente Se non Dio Solo Questa è La perfetta Redizia È una provocazione Chiaramente La figura Di San Francesco Molti sono affascinati Molti sono anche Come dire Anche a volte Un po' Destabilizzati Nel senso che Interpretano in maniera Un po' Molto riduttiva La figura Di San Francesco Non come se fosse Appunto L'emblema Dell'ecologismo D'accordo Certamente In San Francesco C'è la Dimensione Dell'amore Al creato Del rispetto Del creato Che è una cosa Doverosa D'accordo Doverosissima Ma La motivazione Profonda E anche Il tasso Della sua Come dire Comunione Col creato Affonda Le radici Profonde Nel rapporto Unio Che lui ha avuto Con Dio Insomma Senza dubbio Allora Che cosa facevano Di Adamo Ci siamo fermati Volevo farne tre Ma se ne facciamo Ancuno Ok Dice Essendo la sua volontà Una con la nostra Ma guardate Fino a che punto Arriva l'amore Di Dio Questa Cioè la nostra Volontà La volontà Delle tre persone Della Santissima Derenità Gli faceva piovere A torrenti I nostri bene La nostra felicità Tanto che lui Cioè Voi capite Un essere umano Se è Come dire Invaso Dalle cascate Divine Non c'entrano Cioè è travolto Cioè è troppo Cioè Capite Tutto a tutto qui Non potendola contenere tutta Perché non aveva La larghezza del creatore Cioè se Dio Ti si dà E ti riempie E tu briaca Di felicità E di beni Tu non sai più Dove Andate a parare Perché Dio è infinito Noi siamo limitati Noi siamo degli esseri umani Capite Allora dice Mentre si riempiva Fino all'orlo Fino a sboccare fuori Capite Cioè Ricolmato di beni Gli affamati Ha detto la Divina Maria Nel Magnificat Ricolmato di beni Gli affamati Cioè T'ha riempito Cioè Che più di questi Non te ne potrebbero Non li puoi contenere Questo è quello che fa Il Signore Allora che faceva Faceva risalire tutto il resto A colui da qua Lo riceveva Che succedeva Sentite che bella Che bella storia Il suo amore perfetto Che aveva ricevuto da Dio Adamo lo faceva risalire Un'altra volta La sua santità La sua gloria Che possedeva Il comune con noi La faceva risalire Per ridarci La pariglia Della felicità Dell'amore E della gloria Felicità davamo Felicità ci dava Amore e santità E gloria Gli davamo Amore e santità E gloria ci dava Ma capite Una vita di questo genere Ma chi è Che non la vuole Chi è Che non la vorrebbe Cioè D'accordo Figlia mia Il possedere Una volontà divina E cosa da far Strabiliare Questi sono i termini Che Gesù usa Strabiliare L'umano natura Non può comprendere Il tutto Ecco Cioè Questa È un'altra percezione Che si ha Dinanzi a questi scritti Io tante volte L'ho L'ho provata No Cioè Rimani con due occhi così A bocca aperta Diciamo Ragazzi Staremo su scherzi a parte No Però capisci anche Che Rispetto a quello che è La tua capacità di comprensione È limitata E solo Come dire L'esperienza Mano a mano Che il Signore Ti si dà a conoscere Ti fa Come dire Venire Qualche piccolo Barlume Reale Di ciò che potrebbe essere Che è tanta roba Ma davvero tanta Bene Passiamo Che punto stiamo Passiamo al Capitolo Al libro Al volume Ventunesimo 10 marzo Del 1927 Questo è molto bello Adamo Prima di peccare Faceva i suoi atti Nel fiat Divino Attenzione Eh Ciò significa Che la divinità Gli aveva dato Il possesso Di questo regno Capite Cioè Adesso leggiamo Perché per poter possedere Un regno Ci vuole Chi lo forma Chi lo dona E chi lo riceve La divinità Lo formò E lo donò L'uomo Lo ricevette Sicché Adamo Nella sua prima epoca Della creazione Possedeva Questo regno Del fiat Supremo E siccome Lui era il capo Di tutta L'umana generazione Tutte le creature Ricevano il diritto A prendere Questo possesso Tutte E sebbene Adamo Con sottrarsi Della nostra volontà Perdette Il possesso Di questo regno Qui c'è una lunga parentesi Quindi ricordate Il periodo principale Sebbene Adamo Con sottrarsi Della nostra volontà Perdette Il possesso Di questo regno Apri parentesi Perché col fare La sua Si mise Come in stato Di guerra Con l'eterno Fiat E poveretto Non avendo Forza sufficiente Per combattere Né esercito Ben fornito Per poter Guerreggiare Con un volere Così santo Che aveva dato Che aveva Forza invincibile Ed esercito Formidabile Restò vinto E perdette Il regno Da noi dato Molto più Che la forza Che possedeva Prima era la nostra Avendole dato Anche il nostro Esercito A sua disposizione E come Peccò La forza Se ne venne Alla nostra Sorgente E l'esercito Si ritirò Da lui Mettendosi A nostra disposizione Chiusa Parentesi Tutto ciò Non tolse I diritti I suoi discendenti Di poter Riacquistare Il regno Della mia volontà Rileggo il periodo Principale Senza la parentesi E sebbene Adamo Col sottrarsi Della nostra volontà Perdetti Il possesso Di questo regno Tutto ciò Non tolse I diritti I suoi discendenti Di poter Riacquistare Il regno Della mia volontà Successe come ad un re Che per guerra Perde il suo regno Non può essere Tutta la probabilità Che uno dei suoi figli Con un'altra guerra Possa riconquistare Il regno di suo padre Che già era suo Molto più che sulla terra Venne io Il divino vincitore Per rifare L'uomo delle sue perdite E trovando Chi volesse Ricevere Questo regno Gli restituivo La forza Mettendo di nuovo Il mio esercito A sua disposizione Per mantenere l'ordine Il decoro La gloria Di esso E qual è questo esercito? È tutta la creazione Nella quale Attenzione Questo è un concetto Fondamentale In ciascuna cosa creata Sta bilocata La vita Della mia volontà Più che esercito Meraviglioso E formidabile Per mantenere La vita di questo regno Allora l'uomo Perderebbe la speranza Di possedere di nuovo Questo regno Se vedesse scomparire Tutto l'esercito Invincibile Della creazione Allora si potrebbe dire Dio ha ritirato Dalla faccia della terra La sua volontà Che la vivificava La belliva La arricchiva Non c'è più speranza Che il regno Che il regno possa Essere in nostro possesso Ma fino a tanto Che questo esiste È effetto di tempo Trovare coloro Che lo vogliano Ricevere E poi Se non c'era da sperare Il possesso Di questo regno Del fiat divino Non era necessario Che io rimanifestassi Tante sue conoscenze Che lo riguardano Né il suo volere Che vuole regnare Né il suo dolore Perché non regna Quando una cosa Non si può effettuare È inutile parlarne Quindi non avrei avuto Nessun interesse Di dire tante cose Che riguardano La mia volontà divina Sicché il solo parlarne È segno che voglio Che ritorni Il suo possesso E sono bellissime Queste cose Allora Numero uno Sintesi Adamo Nella sua prima Epoca della creazione Questo ormai Lo dovremmo aver capito Conosceva Possedeva Più che conosceva Questo regno Del Fiat Supremo Attenzione Ci sono dei concetti Fondamentali La vita Nella divina volontà Non è solo Questo Non ripeteremo mai A sufficienza Fare la volontà divina Con la nostra volontà umana Anche se questo Attenzione È Prerequisito E condizione Necessaria E sufficiente Perché la prima cosa Su cui dobbiamo Tutti Sforzarci Ad allenarci È Tendere Ad una sempre Maggiore Uniformità Ai voleri divini Questo è il dubbio Questo Però questo Non basta Perché Il regno Del Fiat Supremo Significa Che tu Ricevi il possesso Della divina volontà Diventa una cosa Tua Capito? Il solo parlarne È segno Che io voglio Che ritorni Il suo possesso Cioè Possedere la divina volontà È una cosa Immensa Grandissima Perché Perché con essa Vengono anche Tutti I suoi Beni Il paradiso terrestre Sulla terra La potenza L'onnipotenza La fine Delle passioni L'impossibilità Di fatto Di poter Commettere Peccati Se c'è il possesso Della divina volontà Stiamo tranquilli Cioè Il possesso Della divina volontà Questo è il mio Modestissimo parere Ma Parere da sciocchi Comporta la confermazione In grazia Assolutamente C'è un dono Che alcuni santi Hanno ricevuto Nel corso Della storia Della chiesa Cioè Il fatto che tu Certamente Per il dono Di Dio E per Per tante cose Che ti hanno messo In condizione Di poter ricevere Non pecchi più Non c'è Non c'è Non c'è Nessunissima Possibilità Di compresenza Della divina volontà E peccato Cioè Se io posso fare Qualche peccato È segno Che il regno Del figlio supremo Mi ancora non ci sta Questo è proprio sicuro Questo qui Non ci piove Ma lo stesso Quando noi vediamo Tante volte Io ho spiegato Durante le catechesi No Quando la divina volontà Ti possiede Io faccio sempre Questo esempio Pensiamo a una persona Che è iraconda Una persona Che iraconda In condizioni Normali Cosa deve fare Deve Sforzarsi Di stare tranquilla Di imparare A dominare La passione Dell'ira Ma per questo Certe volte Si deve Srappare budella Cioè Capite Perché Io lo so Cosa significa Essere Il temperamento Di questo genere Cioè È una fatica In mani Cioè Ci vogliono Veramente Le imprese De Sissifo Insomma Per fare cosa Tre vittorie Sette sconfitte Tre volte Titigioni E sette volte Sbotti Questa è È la norma Perché Sta cosa Se si accende Poi Riuscire a domare Il fuoco Di questa passione È difficile D'accordo Poi Ognuno C'ha Capite A seconda Dei temperamenti Ognuno C'ha La croce sua No Allora Che succede Nel regno Della divina volontà La passione Si spegne Capite È finito Tu dici Oh è bello Tutto facile Non è tutto facile Perché prima che Cioè il regno Della divina volontà L'ho detto tante volte Ricordiamo sempre Le cose che ci diciamo Anche se ci ripetiamo In continuazione No L'ultimo stadio È un dono Ma Prima di arrivare Al dono Come nelle esperienze Mistiche ordinarie C'è una preparazione C'è un lavoro Lungo Che è stato fatto Questo dipende da noi E non è che Capito Ecco E È dato Rimando sempre Al famoso Primo ciclo di catechesi Che ho fatto Sulla di buon consiglio Che vuole essere Una sintesi Come faccio A entrare in questo regno Oh Devi aprire Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Fronti di azioni Su cui Piano piano Gradualmente Giorno per giorno Lavorare Cresce In impegnarti Di fare gli atti Di fare i giri Di fare Di imparare a fare discernimento Di imparare a vedere la volontà di Dio Dappertutto Devi chiederti nelle cose Se Dio lo vuole Se Dio non lo vuole Cioè C'è tutto un lavoro Continuo Da fare No E di mettere i ti amo Dappertutto Devi stare in connessione con Gesù 24 ore su 24 Sono montagne di cose Che non ci devono Spaventare Perché sono tutte e altre cose belle Però Io non ho mai sentito Non credo Che sia una cosa Che nasce dall'oggi al domani Nella vita interiore Non ci sono cose Che funzionano così Quindi Che succede? È come anche la grazia Dell'unione mistica Con la Madonna San Luigi dice Quando è che una persona Riuscirà a vivere in Maria Dopo che dopo molti anni Di fedeltà Assidua E sforzandosi Sbattendo la testa E non riuscendo magari Tante volte A fare quello che la Madonna vuole O a vivere unitamente Unito con lei A un certo punto Dagli oggi Dagli domani Cado Mi rialzo Ci riprovo Ci ripaccio Boom Un bel giorno Dice bene Adesso ti apro le porte Vieni Così funziona con questo dono Ok Quindi possedere questo Fial Supremo Cioè uno diventa veramente La vita nella divina volontà È operare da Dio Dice un passo degli scritti Che poi la mia cara amica Deborah Vezzani ha musicato In una bellissima canzone No? È questa la natura del vero amore Operare da Dio Cioè operare da Dio In questo senso D'accordo? Cioè che si ha questa partecipazione Questa è una cosa Che la Chiesa già insegna Perché Quando noi siamo battezzati Ci viene tolto Ci viene tolto Il peccato originale D'accordo? Ci viene tolto Il peccato originale Ci viene infusa La grazia santificante La grazia santificante È il principio Catechismo della Chiesa Cattolica Della divinizzazione Dell'uomo Io altre volte ho detto Che per esempio La teologia orientale Quella degli ortodossi Insiste molto Sulla divinizzazione Dell'uomo Più che noi occidentali Noi occidentali Siamo un pochettino La Chiesa Latina È sempre più stata Attenta a mostrare Come la grazia Ti libera dal peccato Quindi la componente Diciamo così Negativa Ti toglie il negativo Invece La teologia orientale Sulla per dire No 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 Con la grazia santificante Tu Ti viene comunicata La natura divina Tu diventi un piccolo dio Cioè tu sei chiamato Alla divinizzazione Dell'inabitazione trinitaria D'accordo? Quindi questa è una cosa Che non è strana D'accordo? È una È uno sviluppo Fino al pieno compimento Di un principio Che già Noi viviamo Adesso In forma Certamente Non così Clamorosa Diciamo così Non così Piena Non così perfetta Ora Purtroppo Adamo Dice Gesù Questa roba L'ha persa E attenzione Come c'è passato Il peccato originale Non mandate gli accidenti Adamo Gli accidenti Adamo Non si mandano Perché Adamo È un'anima Del cielo Ed è il nostro progenitore Quindi c'è il quarto comandamento Che vale soprattutto per lui Non è tuo padre E tua madre Vale soprattutto per il capo Stivide Dell'umanità Però Come ci stava trasmesso Il peccato originale Se Adamo fosse rimasto Nella divina volontà I suoi discendenti Sarebbero tutti Nati Con il dono Della divina volontà Al momento Della nascita Del concepimento Ce l'avrebbero avuto Come dote naturale E Allora Dice È tutto finito? No Non è tutto finito Allora Qui abbiamo Uno Che ha perso Un regno Lo vuoi riconquistare Tu questo regno Allora Ci abbiamo già Qualcuno Che si chiama Gesù Che è venuto Già lui È stato lui A fare il primo assalto Per noi Al regno D'accordo? Dice La legge I profeti Fino a Giovanni Si regge nel Vangelo Da quel momento in poi Si annuncia Il regno Di Dio E ci si sforza Di entrarvi Il regno di Dio Patisce violenza I violenti Se ne impadroniscono Non i violenti Nel senso che sono Queste fasi Vanno ovviamente I violenti Chi sono? Sono quelli Che dicono Questo è A te faccio Guardi Io sono disposto Farò qualunque cosa Ma questo È l'obiettivo Della mia Esistenza Questo significa D'accordo? Risolutezza Fermezza Fermezza La fermezza È non ritirarsi mai A costo di qualunque sacrificio Contiene quella canzone Che ho citato prima E nelle altre strode A costo di qualunque sacrificio Allora Gesù ci ha restituito la forza Anzitutto Perché Noi siamo stati Redenti da Gesù Non è uno scherzo Quindi Abbiamo L'energia Necessaria Se lo vogliamo Per affrontare Questo Assalto Alla riconquista Del regno perduto Potremmo chiamarla così D'accordo? Potremmo anche dare il titolo A questa catechesi Quando potremmo mettere in giro La riconquista Del regno perduto Si può Alleati Ci abbiamo un esercito E qui Per esempio Un altro caposaldo Fondamentale È la creazione Cioè Imparare A dialogare Con la divina volontà Con Dio Attraverso Il Creato Che ce l'abbiamo Sempre davanti Perché Il regno della divina volontà Consiste A Anzitutto Imparare A riconoscere E prendere Fare nostri Gli atti Del volere divino Gli atti Del volere divino Si trovano in forma Cristallina Perfetta Nella varietà Delle cose Che Dio ha creato Ecco Perché è così importante Pregare Per esempio Attraverso i giri O quantomeno Anche se uno non fa Un giro In senso tecnico Vederle le cose Quando vedo una cosa bella Del creato Subito il pensiero a Dio Immediatamente Subito A ringraziarlo A lodarlo A benedirlo Per noi E per tutti In continuazione Ogni volta che tu fai Un atto di questo genere C'è un po' più Capito Di regno Della divina volontà In te Lo so Che questa è un'espressione Che può sembrare Un po' puerile Ma non trovo un altro modo Ma è così D'accordo È così Perché voi dovete capire Che come Nella vita di grazia ordinaria Vado un principio Il principio è questo qui Ogni atto buono E virtuoso che faccio Mi fa diventare Un po' più virtuoso Ogni atto negativo Che faccio Ogni imperfezione O peggio Ogni peccato Mi fa diventare Meno perfetto Se è un imperfezione Più cattivo Se è un peccato La nostra vita La nostra vita È Per antonomasia In divenire Io non posso Rimanere sempre uguale Cioè Il nostro Il grafico Della nostra vita Funziona necessariamente Non come una linea retta Tutto è Meno che una linea retta Perché O Va verso l'alto O va verso il basso Oppure fa le oscillazioni D'accordo Voi capite che poi Le oscillazioni possono essere Oscillazioni su una linea retta Vuol dire che uno Rimane sempre uguale Perché va Prima va su Va giù Va su Oppure Già un'oscillazione Su una linea Leggermente inclinata Verso l'alto Vuol dire che si Oscilli Però Alla fine della linea Le oscillazioni Si trovano a un livello Più alto Rispetto che All'origine Quindi vuol dire Che hai proprio credito Che sei cresciuto D'accordo Così vale per il regno Nella divina volontà Allora L'esercito Combatte al nostro fianco Perché Gesù spiega In tutta In ciascuna cosa creata Sta bilocata La vita della mia divina volontà Bilocata Cioè In un fiore C'è Un atto Della divina volontà Depositato lì Tu lo devi riconoscere E lo devi prendere E farlo tuo Come Lo dobbiamo sapere D'accordo Non è tanto difficile Ricevo il tuo Ti amo Gesù Attraverso questo fiore Lo accolgo Te ne ringrazio Metto il mio Ti amo In quello stesso fiore Dove c'è Quell'atto stesso Della tua volontà Per unirmi con essa E anzi Ricambio il mio Ti amo Per me E per tutti Questa è una Delle operazioni Perché questo è un cammino Questo qui Capite Quante più operazioni Di questo genere Fai Tanto più si dilata In te Il regno Della divina volontà Punto Questo è proprio Matematico Allora E Gesù dice Lo vedi ancora Il creato in giro Allora se vedi ancora Il creato in giro Sta tranquillo Che se vedi il creato Vuol dire Che c'è la possibilità Di accedere a questo regno Punto Se non il creato Sarebbe scomparso E ricordati anche Un'altra cosa Non pensare mai Che giungere dentro Questo regno Sia impossibile Perché se io Se una cosa Non la voglio fare È inutile parlarne Ma se io ne ho parlato E tanto ne ha parlato 36 volumi E tanta roba È segno Che io voglio Che ritorni in suo possesso Quindi non è Impossibile Entrare in questo mondo Possibilissimo Per chi lo vuole Facciamo in tempo A leggere Rapidamente L'ultimo brano Che voglio leggere Per questa sera Il precedente Era volume 21 10 marzo 1927 Questo è sempre volume 21 26 marzo 1927 Dopo ciò pensavo Tra me Ma come mai Da un posto così alto Quando fu creato Da Dio Cadde così nel basso Dopo il peccato Ed il mio sempre amabile Gesù Muovendosi nel mio interno Mi ha detto Figlia mia Nella creazione Una fu la volontà Che usci in campo Nel creare tutte le cose E con diritto A questa sola Aspettava il dominio Il regime E lo svolgimento Della stessa vita In ciascun essere Cosa ad essa creata Ora Col sottrarsi L'uomo Dalla nostra volontà Non fu più Una la volontà Che regnava sulla terra Ma due E siccome l'umana Era inferiore Alla divina Si svuotò Di tutti questi Di tutti i beni Di questo Fiat Supremo E facendo la sua Tolse il posto Alla volontà divina Questo fu il più grande Dei dolori Molto più Che questa volontà Umana Era uscita Ed era stata creata Dalla divina volontà Perché tutto fosse Proprietà sua Dominio suo Ora l'uomo Col sottrarsi Dalla nostra Si rese Attenzione Reo di rubare I diritti divini E facendo la sua Nulla più Gli apparteneva Delle cose Creati da questo Fiat Sicché doveva trovare Un luogo Dove non si stendesse La nostra opera E gratice Ma ciò gli era anche impossibile Perché questo luogo Non si trova E mentre non era Con la nostra volontà Prendeva delle cose Sue per vivere Si serviva del sole Dell'acqua Dei frutti della terra Di tutto E questi erano tutti I furti che ci faceva Sicché l'uomo Con non fare La nostra volontà Si rese Il Ladroncello Di tutti i nostri beni Come fu doloroso Vedere Che la creazione Doveva servire A tanti disertori A tanti Che non appartenevano Al regno Del Fiat divino E per quante Creature Doveva venire alla luce Non dovevano vivere Nel regno nostro E farsi dominare Dalla nostra volontà Tanti posti Perdeva sulla terra Allora Carissimi amici L'ultimo messaggio Che riceviamo Questa sera Un messaggio Un po' così Vi do La triste notizia Facendomi eco Di quello Abbiamo ascoltato Che siamo tutti Infatti una banda Di ladri Come non sono I dati Non soltanto Quelli del governo Che i gruppi Sono sempre i governanti No Non sono soltanto Quelli del governo Che stasera Abbiamo imparato Questa cosa nuova Siamo ladri Pure noi Io sono un ladro Sì Tu sei un ladro L'ha detto Gesù L'ha detto due volte L'ha detto Reo di rubare I diritti divini E sei diventato Il ladroncello Che cosa è successo? Tu Essere umano Chi sei? Tu sei Un'opera Della Divina Volontà Tu E questa stessa Divina volontà In Adamo Ti era stata data In dono Abbiamo già visto Come possesso Tuo Tutte le cose Che vedi intorno a te Quando esci di casa La mattina Tutte Lo sai cosa sono? Sono atti Della divina volontà D'accordo? Di cui è legittimo Proprietario Chi questa divina volontà La possiede Allora che succede? Adamo ha peccato Si è messo a fare la guerra Lui che è un essere umano Contro la divina volontà Causando un grande dolore a Dio Anzi Il più grande dei dolori Quindi tu sei rimasto senza E che cosa fai? Tu ti godi la luce del sole Ma la luce del sole Non è un atto della divina volontà Tu mangi Tutti i giorni Cose che vengono Dalla terra Tutte vengono Dalla terra Siamo Quando ti mangi la carne La carne è Un animale Che viene Dalla Dalla terra La pasta viene Dalla terra Il pomodoro viene Dalla terra Le produrie vengono Dalla terra La frutta viene Dalla terra E cosa sono queste cose? Sono tutti quanti atti Della divina volontà Tutti Tutti Pensate per esempio qua Quanta gente mangia Senza manco parte il seno Della croce Quello è un ladro Doppiamente ladro Doppiamente ladro Allora Che cosa dice Gesù? L'uomo Con sottrarsi Dalla nostra volontà Si rese reo Di rubare I diritti divini E facendo la sua Nulla più Gli apparteneva Di tutto quanto il creato E tutto il creato Era stato fatto Di Dio per noi Era stato donato a noi Ma Ribellandosi a Dio A te non ti appartiene Più niente E infatti Non lo sappiamo Che tutto il creato Ci si è Ricoltato contro Lo vediamo in continuazione Anche tutti quante Le brutte notizie Dei cataclismi Delle catastrofi Naturali In cui certamente Non fate mai L'errore Dello stabilire Improbabili Nessi di Causalità immediati Quella sciagura Più un bar addosso A Perché se lo sono meritati Ricordiamo quello che disse Gesù Nel Vangelo Pensate che quelli Possono il peccatore Di tutti No vi dico Parlando delle sciagure Del suo tempo C'è una relazione Ontologica Metafisica Oserei dire Tra Cataclismi naturali E il peccato Dell'uomo Ma peccato Come in senso Generalizzato Cioè Questa alterazione Dell'ordine Creaturale Ha Come causa Profonda Questa è la Rivelazione Questo possono Ridere quanto Vogliono Scienziati Geologi E coloro che Vogliono Ma questo è D'accordo? Perché a te Non ti appartiene Più nulla Il creato Non ci riconosce Più Come suo signore A noi Che lo eravamo Allora Dici Gesù Bisogna trovare Un posto Adamo È venuto voglia Di scappare Andiamo Da qualche posto Dove non si stende L'opera Creatrice Ma non c'è Perché qui Dovunque Ti giri È tutta roba Del padre eterno Noi viviamo In mezzo Alla roba Del padre eterno In continuazione Capito? Non possiamo Non sappiamo Manco Andarsene a scappare Per Per Non sentirci ladri Perché Ci viviamo In mezzo E prendiamo Continuamente Delle cose L'unica Soluzione Qual è? L'unica Soluzione È Cominciare A rientrare In questo mondo Cominciare Anzitutto A fare come San Francesco Allorare Benedire Ringraziare Il Signore Per tutto E di tutto Non sia mai Che ci mettiamo Per esempio A mangiare Senza ringraziare Il Signore Io vorrei Tanto sapere Quanti Cristiani Cattolici Quando si siedono Colazione Branzo Cena Ringraziano Il Signore Ma questo È un atto Doveroso Doveroso Se non tu sei Dobbiamente ladro All'uomo Con non fare La nostra Vuontà Si rese Ladroncello Di tutti I nostri I beni Tutti E Come fu doloroso Vedere la creazione Che doveva Servire a tanti Disertori Bruttissima cosa Quindi Oltre che ladri Abbiamo saputo Di essere anche Disertori Abbiamo proprio L'infamia Attaccata addosso Quindi C'è solo un modo Per far tornare Il sorriso A Gesù Accogliere Ed entrare In questo regno Iniziare a farci Dominare Dalla divina volontà Per sfuggire Dalla nostra Creaturale Condizione Innaturale Di ladri E di disertori Bene Felici Perché fondamentalmente Detto proprio in due parole Interrare nel regno Del fio al supremo Significa restituire A Dio La gioia E la felicità Di farci E di vederci Felici Bene Appuntamento Per chi crede Alla prossima settimana Per una nuova puntata Di questo ciclo di Catechesi La mia benedizione A tutti Santanotte Ave Maria